Ciao a tutti, questo è un nuovo episodio del mio let's play, il sesto immagino, si, parlo abbastanza piano perchè è tardi, non tanto, ma è pur sempre tardi, intanto qua il ferro cuoce, e in questo episodio io ho intenzione di fare una cosa bella bella bella, perchè ho questi semi in mano, indovinate? beh, avete capito no? su via, avete capito no? ho intenzione di fare una coltivazione, abbiamo la terra? no, come no? vabbè non ci sembra terra mmm, tanto per legno, 1, 2, 3, 4, 5 ehm, dunque, la coltivazione dove la farò? ehm, penso qui davanti, vicino al bel fungo, in bella compagnia dei creeper, boh, fosse così ehm, vediamo due stecchini e un buon di pietra oh, c'è già la pietra, vabbè così non cambia l'inventario non ho carbone? ok, non ho carbone là c'è carbone, mi pare di vedere no, mi svegliamo ma cosa vedo io? ehm, dunque non ci sono creeper, a quanto vedo, quindi possiamo già cominciare, che dite? ehm, andiamoci intorno, nessuno nessuno, nessuno wow si, perfetto facciamolo dietro casa, dove i creeper possono spawnare più facilmente oh, aspetta aspettate ah, sono vero di scema sono ah, che dio ah, devo fare un secchio facciamole due con tutto il suo ferro ah, ok eh, cos'altro mi manca? ok facciamolo, non si sa mai tanto i creeper lo so che vogliono uccidere ce l'hanno con me, quindi facciamoci questo coso per rimediare oh yeah ora mi sento tanto potente allora dunque, intanto ehm siamo ai 55 iscritti grazie a tutti, no? mhm allora, siccome io voglio fare le cose in grande ho intenzione di fare il premio ai 100 iscritti, no? perché è una meta buona, no? si 3 4 quindi ho pensato bene di farvi un regalo grande perché 100 iscritti non è da tutti, no? anche se è comunque un po' facilino da raggiungere ma non è forse non è comunque facile no? quindi ehm vi sto costruendo un mondo un mondo bello bello uno dove voi potete incominciare il vostro let's play o semplicemente boh qualcosa e cose così mhm ora ehm non so se è giorno o notte sarà giornotte sì sono presente ora mhm quando arriveremo ai 100 iscritti ve lo posterò vi dico solo che è qualcosa di incredibilmente colossale ma c'è non troppo eh non fatevi illusioni però è pur sempre qualcosa di grande c'è una casa bella o due due tre piani boh così cosa dico due tre piani ehm una piscina naturale un porto tante belle cose no? un due tre quattro cinque un due tre quattro sì preciso meno male che ho trovato quel villaggio allora dunque oh l'abbiamo già fatto non è troppo presto vediamo quanto è passato quattro minuti va bene dunque quindi visto che sono passati ok visto che sono passati sono trenta minuti sì trenta minuti dopo domani solo quattro minuti ehm sì mi cerco prendere la pala facciamo il contorno a questa bella mhm come si chiama sì a 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ok non conto più perchè mi viene peggio se no aaah non finire troppo presto in lì questo buco lo dovrò riparare più un po' poi non prima ho oscurato la vista prendiamo 10 di legno e trasformiamoli ecco qui così, proprio così aspetta, cos'è questo? ok, non è un zonco passiamo di qua questa cosa fa tanto contadini mi ricorda qualche cosa piacevole ma non è affatto piacevole creare una serra non è una serra, è una serra forse è una serra buono, non so voglio fare le cose fatte bene non una specie di cubo stupido cosa devo prendere la palla non devo prendere la sabbia devo prendere tutto fermiamo buonanotte buongiorno a tutti nessun creeper, vero? no bene prendiamo del legno bel legno abbiamo sabbia? no che bella notizia ovvio non abbiamo sabbia basta fare gli squilibri aspetta no si ce l'abbiamo la palla ah ok aspetta ok tanto sai chi noi stiamo usando noi ecco dunque dovrei essere un po' più energica ma ho un sonno della madonna e devo farvi questo dannatissimo video quindi ve lo sto facendo contenti no? no perché se non siete contenti smetto adesso di farlo no? quindi siate contenti molto contenti nel prossimo episodio forse esploreremo ecco lo so che non ci basta io vado a prendere no mi secco uff mi secco per tutto oh si moriamo dai forza facciamoci male forse andremo a esplorare meglio il il villaggio? no è troppo brutto non serve a niente e allora che faremo nel prossimo episodio? non so ah intanto ho deciso una cosa nel video vorrei anche salutare così i miei fan che mi seguono quindi se a qualcuno farebbe piacere me lo può se fare piacere me lo può scrivere benissimo nei commenti di questo video ovunque mi manda un messaggio che ho scritto mi saluti nel prossimo video qualunque cosa e io lo farò volentieri dai perché alla fine è un piacere per me vedere che gente vuole essere salutata solamente per un segno di affetto così di questo genere perché alla fine c'è va così poi vedo che molte persone lo fanno quindi mi sembra qualcosa di carino sì oh ferro bene ferro bene ah ferro bene ok si può cuocere con un piccone di ferro si di ferro di legno lo scopriremo adesso ok non si può ma è tutto di legno come mai non si può con un ramoscello io so di sì yeah si può sono un mito sono un pro 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 ok non si capisce niente basta sali impazzendo basta bello jack o l'hunter jack o l'hunter non lo so ok ora sicuramente avrò sforato di 80 ore vediamo eh lo sapevo eh lo sapevo quando me la prendo comoda uffa quando me la prendo comoda vabbè nella prossima puntata finiremo il granaio cos'è sta cosa qua cosa del grano ehm boh qualcosa faremo qualcosa altro giusto andremo in caccia di ragni perché voglio pescare gente voglio pescare perché voglio fare un episodio dedicato alla pesca ok eh non posso più parlare se no questo video pesa un vasino mi piacerebbe fare un video sui 20 minuti in su perché mi hanno dato il permesso di farne video più lunghi se mi dite un segreto per farli che pesano pochissimo lo farò questo video appunto vabbè sì devo andare non state capendo niente sto salterando da un posto all'altro non posso dormire vai posso dormire e ciao a tutti devo dormire devo trovarmi in internet oh adesso sono ancora in onda ciao ciao a tutti ciao a tutti